E' un lavoro semplice, non ti preoccupare, non ha neppure la scorta. Mi scenderà dal treno che viene alle 7.59 da Roma, al binario 2, poi si dirigerà verso l'uscita secondaria della stazione, quella sul lato della ferrovia, a circa 300 metri. Domande? Dobbiamo proprio ucciderle. Bentornati allora su Radiocampo dei Miracoli, 97.90, Ivana con voi, parlando di cose che riguardano anche l'attualità. Siamo tutti un po' così, abbastanza insicuri in questi giorni, viviamo tempi difficili con la minaccia a terrorismo che incombe. Si pone un problema serio per quello che riguarda il neo-premier Gordon Brown, che ha avuto modo di dire alle radio e alle televisioni di tutto il mondo che il terrorismo è una minaccia seria. Insomma, sono cose che non ci fanno assolutamente dormire tranquilli. Io metterei un bel disco a questo punto, un bel disco che ci fa pensare, ecco, direi musica per riflettere. È il brano, tra parentesi, questo di un musicista italiano che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Il musicista in questione si chiama Giovanni Conversano e pensate, dopo anni di dura gavetta, come lui stesso dice, solo ora sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Il musicista in questione si chiama Giovanni Conversano. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti